Hey ragazzi, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi, siamo qui per il quarto round della stagione di Formula 2 per la 1A1 Racing Team di Alas Adramson, un circuito che di solito non ha dato nelle mie carriere grandi soddisfazioni, non è un circuito che adoro, vediamo se però con questa vettura che si sta dimostrando veramente molto molto forte con una Sofia Floer che è ritornata, è cresciuta tantissimo, è ritornata a livelli incredibili, ai livelli del primo campionato vinto in 1A1 Racing Team, vediamo se riusciremo a cogliere delle buone soddisfazioni in questo circuito, vediamo se riusciremo a togliere lo scettro di migliore a Max Overstappen che in questa Formula 2 sicuramente non ci sta a fare nulla. Detto questo ragazzi vi invito come sempre a lasciare un like, commentare, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti, scusatemi per questo elenco, so che già sapete tutto, iscrivetevi anche al mio canale Instagram naturalmente, Etta la saranno per tutti gli aggiornamenti riguardo alle nuove uscite, ve lo chiedo, ve lo ripeto perché se voi riuscite ad aiutarmi con i like, con i commenti, con le iscrizioni soprattutto, spendendo quei pochi secondi che a voi possono valere veramente poco sforzo, ma che a me danno un grande aiuto per creare nuovi contenuti e per avere sempre nuovi stimoli nel creare nuovi contenuti per il canale, ve ne sarei veramente immensamente grato. Quindi grazie a tutti voi se lo fate regolarmente e vi auguro naturalmente buona visione, noi ci vediamo al termine del video per i saluti finali, quindi adesso vai con l'intro e poi partiamo! Eccoci ragazzi, bentornati nella dashboard di Alassad Ramson, torniamo a ciò che più ci compete, l'ultimo evento come sapete, se non l'avete visto recuperatelo, l'evento in V di Phoenix 50, quindi torniamo ora a ciò che più ci compete, la Formula 2, quarto round della stagione GP di Sydney, dobbiamo solo scendere in pista per il weekend di gara, quindi continuiamo ed eccoci al nostro fine settimana australiano, vediamo che cosa ci porterà in dote, dobbiamo scegliere naturalmente il nostro sponsor e direi di tornare al più sicuro, Root, terzo posto superiore, visto che comunque Max Verstappen ha dimostrato di avere una vettura veramente veloce e soprattutto di essere lui un grandissimo talento, sicuramente non da Formula 2. Root, terzo posto superiore e scendiamo in pista per le nostre qualifiche. GP di Sydney, quarto round della stagione di Formula 2, continuiamo, andiamo a settare la nostra vettura per le qualifiche, dove stiamo facendo veramente bene, andiamo subito a settare la vettura di Sofia Floersch, partendo con un buon 5, niente male, 60% meno 0,5 già dal primo tentativo con la pilota tedesca, ora scendiamo con Dan Tiktum, con Dan ci fermiamo al 52%, lo mandiamo in pista con le gomme morbide e vediamo come sarà il nostro primo giro. Sofia Floersch, Fuchsia nel primo settore, va Fuchsia nel secondo settore, sembra lei la più veloce ancora una volta, chiude il giro in 1, 18, 365, Dan Tiktum in seconda piazza, 4 decimi e oltre. Vediamo il tempo che farà siglare Max Verstappen che ancora non ha effettuato il suo giro. Arriva ora Verstappen, infatti si mette in mezzo tra Sofia Floersch e Dan Tiktum, riandiamo subito in pista, Sofia Floersch con il settaggio della sua vettura, cerchiamo di raggiungere già il 100%, potremmo farcela, siamo al 98% con questa carta, dovremmo riuscirci tranquillamente con questa ad arrivare già al 100% per il secondo tentativo, eccoci Sofia Floersch in pista, quindi due tentativi con il 100% di setup, vediamo di migliorare il più possibile anche il setup di Dan Tiktum per dargli più possibilità possibili, con la macchina migliore siamo all'82%, non credo che con lui riusciremo a settare una vettura al 100% per il secondo tentativo, ci fermiamo probabilmente al 98%, 99%, c'eravamo quasi, ci è mancato veramente poco e vediamo che tentativi, come andranno i tentativi in questo secondo giro cronometrato per i nostri piloti, Sofia Floersch comunque sembra una spanna sopra a tutti, va Fuchsia ancora nel primo settore con Tiktum che si migliora, secondo settore Fuchsia ancora per Sofia Floersch che va a chiudere in 1, 18,199, 4 decimi di svantaggio per Verstappen, 5 decimi di svantaggio per Dan Tiktum che migliora ma non supera Max Verstappen. Mandiamo subito in pista i nostri due piloti perché rischia soprattutto Tiktum di non effettuare il suo giro, il suo terzo tentativo con vettura al massimo e questo gli garantirebbe di sicuro di non riuscire a battere Max Verstappen e probabilmente non ci arriva, vediamo, forse ci arriva Sofia ma non so Dan, passa Sofia, Dan Tiktum di pochissimo, gli è mancato qualche secondo, purtroppo può migliorare solo Sofia Floersch che fa Fuchsia ancora nel primo e nel secondo settore, si migliora ulteriormente, 1,18,101 da quasi 5 decimi a Max Verstappen e quasi 6 al compagno di squadra, è un 1,3, se non sbaglio è la prima gara in cui non troviamo l'1,2 in qualifica, speriamo possa migliorare la sua posizione però Dan Tiktum durante la gara, continuiamo quindi e scendiamo in pista per questo quarto round della stagione nel GP australiano, vediamo cosa riusciremo a portare a termine, vediamo la nostra strategia, naturalmente partiamo con gomma media che però dura dai 4 ai 6 giri, beh dovremo riuscire tranquillamente a montare la media per arrivare fino in fondo, visto che sono 14 giri, andiamo subito a spingere sulle gomme e sul carburante, andiamo però in alta e non su super sorpasso, tempi del pit stop più veloci di 0,75 per Sofia Floersch, ugualmente per Dan Tiktum stessa strategia, cambio gomme 40% più veloce, continuiamo e scendiamo in pista, si accendono le luci, 3, 4, 5, parte in questo momento il gran premio di Sydney, quarto round della stagione di Formula 2 con Sofia Floersch e Dan Tiktum che partono molto bene, addirittura Dan Tiktum riesce a prendersi l'interno, mette in crisi Max Verstappen per un momento, ora è Verstappen però a mettere pressione su Sofia Floersch, Verstappen non sta spingendo sulla gomma quindi dobbiamo andare a gestire anche noi, vediamo se sta spingendo, si solo sul carburante, addirittura sta gestendo la gomma, Max Verstappen, c'è stato un errore, non ho visto di chi, di uno dei tre, di uno dei tre l'errore, noi non abbiamo bisogno di gestire la gomma in questo frangente perché comunque dovremmo riuscire ad arrivare intorno al quinto o al sesto giro per poi effettuare il p-stop e montare la gomma media, attenzione a Tiktum, attenzione a Tiktum che spinge forte, Verstappen si è messo in risparmio carburante quindi andiamo anche noi, mentre Tiktum se riuscisse a passare sarebbe un buon vantaggio per noi, passa Tiktum e ora possiamo mettere in media per cercare di tenerci dietro il pilota olandese, c'è un testa a coda là dietro dell'altro Tiktum che aveva effettuato il giro più veloce ma si è ricaduto in classifica, Verstappen continua a gestire la gomma, sembra che voglia andare lungo, sembra che voglia andare lungo al settimo giro e montare un altro treno di morbide, quindi dobbiamo gestire anche noi perché dobbiamo assolutamente coprire la strategia di Max Verstappen che ora va a passare, sembrerebbe, il nostro Dan Tiktum si mette davanti, attenzione ora è pericolosissimo, ora è pericolosissimo Verstappen passa subito, ci ha messo nulla a passare Sofia Floersch e infatti non è più in gestione e questo ci ha fregato perché addirittura Sofia Floersch è in seconda ma Tiktum in quarta e c'è un drive-thru là dietro per Fukuzumi, scappa via, scappa via, via Max Verstappen e abbiamo Piquet e Tiktum in quinta, è sceso in quinta ma purtroppo dobbiamo marcarli in reazione neutra ora Sofia Floersch deve difendersi, è scappato via già Max Verstappen, è già scappato via Max Verstappen e Sofia Floersch ha problemi a difendersi, deve spingere con Tiktum che è sceso in ottava, lo lasciamo così speriamo nel muretto, risale in settima ma Floersch è in terza con Piquet in seconda e Tiktum, scusate Verstappen è scappato via, è già due secondi davanti a Sofia Floersch che sta spingendo anche sul carburante per cercare di contrastare lo strapotere del pilota olandese che sicuramente vuole arrivare al settimo giro. Continuiamo così e speriamo che Sofia Floersch riesca a rispondere, deve assolutamente mettersi, cercare un undercut e mettersi dietro Piquet che per ora sta creando problemi perché Sofia Floersch non riesce ad esprimere il suo passo e Tiktum è crollato in ottava, Tiktum è crollato in ottava piazza, a questo punto direi di far attaccare Tiktum e con lui di provare la strategia alternativa, sesto giro e mettere le medie e cercare di spingere tutto in quel giro in cui si ferma, no si ferma alla fine Verstappen, ci ha fregato, ci ha fregato e allora spingiamo tutto, spingiamo tutto, fregatura di Verstappen si è fermato presto alla fine e ora non è facile, ora non è facile la situazione perché possiamo provare a fermarci, ha montato le medie presuppongo, andiamo a spingere tutto con Sofia Floersch in questo giro, andiamo a spingere tutto anche sul carburante, pit stop, gomma media e andiamo a marcare naturalmente Max Verstappen, mentre con Tiktum proviamo ad andare lunghi e a montare un treno di gomme morbide proviamo la strategia alternativa a questo punto con Dan, Verstappen ha montato la media, sta spingendo al massimo, vediamo se Sofia Floersch grazie al muretto box riesce a recuperare la posizione su Max Verstappen mentre ora Dan Tiktum sarà l'unico a proseguire e a montare la gomma media, andiamo a spingere sul carburante con Dan e a montare un altro treno di morbide sarà velocissimo il pit stop di Dan Tiktum vediamo Max Verstappen è dietro a Sofia Floersch, Sofia Floersch ha guadagnato tante posizioni in nona ed è ampiamente davanti ora Max Verstappen Cercherà ora di riguadagnare, Tiktum perde, sicuramente perde in questo frangente però vediamo se il pit stop sarà abbastanza veloce, abbiamo visto dei pit stop incredibili da parte del muretto box che potrebbero garantirgli una buona posizione al rientro in pista vediamo, si ferma Tiktum proprio l'ultimo box purtroppo non è così veloce come è capitato altre volte, anzi 4 secondi rientra molto indietro Dan Tiktum e facciamo gestire la gomma in questa prima fase visto che riuscirà tranquillamente a recuperare su quelli che sono davanti vediamo, vediamo cosa riuscirà a fare non sta spingendo troppo sulla gomma però ha una gomma sicuramente più usurata, 13% più usurata quella di Verstappen rispetto a quella di Sofia Floersch che ora deve fare un gran lavoro per cercare di difendersi dal pilota olandese che però sta avendo problemi nel passare Beckman ora Verstappen è riuscita a passare ed è subito dietro Sofia Floersch deve assolutamente passare quelli che sono davanti andiamo in super sorpasso per cercare il sorpasso Sofia Floersch e ora andiamo in media, è riuscita a passare dovrebbe riuscire a passare anche qui su Dronia ma Verstappen ha una facilità di sorpasso incredibile è su un altro pianeta e si è messo subito dietro ora Cassidy là davanti, presuppongo che a breve si fermerà Cassidy Verstappen ha una facilità di sorpasso guardate Tiktum, sta recuperando posizioni su posizione si è ripreso praticamente la coda di Beckman nonostante stia gestendo la gomma però condizione 12% della vettura e anche Sofia Floersch al 30% quindi dobbiamo stare... attenzione Verstappen si è messo in prima posizione l'ho completamente perso incredibile, la facilità di sorpasso che ha Verstappen e la difficoltà invece per Sofia Floersch guardate se ne è già scappato Max Verstappen ha dovuto praticamente aspettare Sofia Floersch che Cassidy si fermasse e purtroppo perde, perde sul passo gara e allora è il momento di spingere per Sofia Floersch sulla gomma dovrebbe riuscire, no, forse a fine gara no ad arrivare alla fine no però purtroppo non riesce a guadagnare su Verstappen nonostante stia spingendo sulla gomma ora è il momento di spingere anche per Dan Tictum che in settima piazza sta recuperando una buona strategia per lui forse sarebbe stato l'ideale anche per Sofia Floersch la stessa strategia purtroppo Max Verstappen non sta spingendo eppure riesce a tenere lo stesso distacco andiamo in neutrale con Sofia Floersch sperando che riesca a difendere quel po' di vantaggio grazie al consumo gomme di Max Verstappen e poi a spingere al momento giusto per cercare di rimontare ma Verstappen e la sua vettura stanno migliorando di gara in gara Tictum purtroppo non posso farlo spingere sul carburante in quanto rischio di rovinare ulteriormente le condizioni della vettura e di provocarne un ritiro ed è molto probabile che arrivi il ritiro ora a tre secondi di vantaggio Max Verstappen deve spingere tutto Sofia Floersch spinge tutto Sofia Floersch in questo frangente ora tra poco è il momento di spingere anche per Dan Tictum lo faremo spingere nell'ultimo giro andiamo a cercare il sorpasso con Dan Tictum punti costruttori importanti riesce il sorpasso di Dan Tictum che poi si rimette in media per non consumare troppo carburante potrebbe riprendersi il podio Dan Tictum grazie a questa strategia mentre Sofia Floersch sta guadagnando sta guadagnando tanto Sofia Floersch con vettura al 20% e Dan Tictum al 10% sta provando a riprendere Piquet Dan Tictum e Sofia Floersch ha accorciato un secondo e 7 dal pilota olandese ma credo che non riesca a fare di più credo che purtroppo Sofia Floersch non riesca a fare di più ancora una volta troppo passo per il pilota olandese vediamo di farci di provare qua in fondo anche con Tictum a riprendersi il podio se lo meriterebbe grazie a questa grande strategia va a spingere tutto ora anche Dan Tictum anche sulla gomma cercare qua in fondo il sorpasso proprio alle ultime curve ma Tictum non ce la fa e Sofia Floersch arriva in seconda piazza Tictum in volata è quarto purtroppo di un decimo rispetto a Piquet siamo sempre lì buona gara ma ci manca ancora qualcosa perché Sofia Floersch assolutamente le manca qualcosa per competere con Max Verstappen al momento e Dan Tictum ancora deve fare quel passo per confermarsi un pilota di altissimo livello la vettura va assolutamente migliorata sicuramente cercheremo di fare meglio nelle prossime gare perché ora la differenza si è sempre più assottiliata anzi la 1 in 1 racing team mi pare che in questo momento sia leggermente inferiore alla Hart Grand Prix Max Verstappen vince davanti a Sofia Floersch Pedro Piquet Tictum Dan Tictum rimaniamo primi in classifica di 15 punti rispetto alla Hart Grand Prix classifica piloti però Max Verstappen si prende la vetta pari vittorie e pari punti con Sofia Floersch quindi siamo lì due vittorie a testa e due secondi posti a testa Dan Tictum in terza meno 14 però deve stare attento deve migliorare le sue prestazioni il nostro secondo pilota proseguiamo ed ecco c'è la simulazione degli altri campionati con Charles Leclerc che vince davanti a Lando Norris quindi doppietta per Scuderia Ferrari poi Mick Schumacher il capo classifica Esteban O'Conn va in quarta posizione classifica Scuderia allunga Scuderia Ferrari più 30 su Mercedes Red Bull in terza classifica piloti Esteban O'Conn rimane in testa ma ha solo due punti di vantaggio su Charles Leclerc e sei di vantaggio su Lando Norris in questo momento proseguiamo però e scendiamo nei particolari della nostra carriera un punto miglioramento per entrambi i piloti abbiamo Antonina B che sembra veramente un ottimo prospetto 64 punti su 100 100 su 100 di potenziale massimo andiamo a dare il primo punto miglioramento a lui naturalmente più 20 alle prestazioni di tutti i componenti cerchiamo di migliorare in questo modo la nostra vettura che comunque sembra ripeto inferiore rispetto a quella della Art Grand Prix e al momento soprattutto sembra leggermente inferiore Sofia Floers rispetto a Max Verstappen pertanto andiamo a segnare i punti miglioramento Sofia Floers ha bisogno assolutamente di migliorare in sorpasso ha avuto delle delle difficoltà nei sorpassi incredibili nonostante avesse 18 punti rispetto a un Verstappen che invece non ha alcun tipo di problema a sorpassare con Tictum invece aumentiamo la fluidità raggiungiamo il massimo possibile torniamo alla home non abbiamo altre novità abbiamo la vettura migliore secondo il grafico però non sembra dalle gare andiamo alla settimana di riposo vediamo se abbiamo degli sponsor in scadenza e così Ishimizu in scadenza Gustavo Cruises in scadenza andiamo quindi nella schermata degli sponsor sponsor per gara abbiamo delle ottime offerte la prima Jogo Games 6 gare 550.000 di pagamento in anticipo 600.000 per gara è sicuramente già superiore a quella di Babylitas che ci offre per 4 gare oddio sono solo 4 gare quella di Babylitas Babylitas ci offre quindi diciamo 750.000 dollari per gara mentre per quanto riguarda Jogo Games ci offre 600.000 per gara più pagamento in anticipo che sarebbe da dividere teoricamente per gara è minore quella di Jogo Games quindi scegliamo Babylitas 3 milioni di pagamento in anticipo scendiamo nella computo degli arrivi settimanali va benissimo così per quanto riguarda invece l'offerta di sponsorizzazione gradino più basso scegliamo PlaySport perché non la utilizzeremo 1.350.000 dollari di bonus in anticipo saliamo a più di 21 milioni di dollari direi che possiamo dare un'occhiata a questo punto al quartier generale perché possiamo migliorare degli aspetti direi a questo punto di sviluppare ulteriormente questo ramo di sbloccare il cambio 4 milioni di dollari continuiamo e di sbloccare il fondo di ricerca d'emergenza così ci arriveranno prima abbiamo comunque soldi da parte tranquillamente per poter sviluppare la macchina della prossima stagione dopo la prossima gara quindi a questo punto direi di andare a sviluppare dei nuovi pezzi per la vettura costruiamo dei componenti andiamo a costruire sia un alettone anteriore che una sospensione cerchiamo di migliorare così la nostra vettura nuovo alettone anteriore che arriverà per la prossima gara e nuove sospensioni possiamo anche aggirare le regole andiamo così costruiamo il componente benissimo così continuiamo andiamo alla home e con questo episodio abbiamo terminato ragazzi i prossimi pezzi questi pezzi che abbiamo appena costruito arriveranno dopo la gara del GP del Mar Nero il prossimo episodio round 5 giro di boa GP del Mar Nero in Russia questa gara è andata bene ma non benissimo possiamo sicuramente migliorare ulteriormente per giocarci bene il campionato anche il campionato piloti perché il costruttore vi sembra comunque che avendo una macchina molto forte entrambi i piloti riescano ad arrivare molto in alto mentre l'Art Grand Prix e le altre vetture riescono a portare più che altro una vettura su in classifica quindi per ora nel campionato costruttori possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti detto questo vi invito come sempre a lasciare un like a commentare iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti iscrivetevi anche al mio canale Instagram è Talasalamo per tutti gli aggiornamenti riguardo le nuove uscite di questo canale detto questo appuntamento al prossimo Gran Premio Round 5 GP del Mar Nero in Russia io vi saluto vi ringrazio per la visione ciao ragazzi ciao ragazzi